la terra continua a tremare altra intensa scossa nella notte case bruciate sarà evacuata per disinnescare un ordigno bellico pesaro aumenta il fondo tari a mezzo milione di euro a palazzo gradari arriva terre mare wine festival natale a fano domenica si accende l'albero della piazza buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 23 novembre apriamo questa edizione parlando degli aggiornamenti sul terremoto perché la terra è tornata a tremare questa notte alle 3 con magnitudo 3.6 sempre con epicentro a 21 chilometri a largo della costa di fano e a una profondità di 10 chilometri un'attività sismica che continua da due settimane esatte come continuano anche i controlli sugli edifici buone notizie in tal senso dal palazzo di via del maino con nove famiglie che sono state evacuate lo scorso giovedì a scopo precauzionale e che oggi dopo le perizie tecniche sulla struttura sono potute rientrare in casa evacuazioni per edifici pericolanti ma anche per ordigni bellici da disinnescare questo è il caso della frazione di case bruciate che il prossimo 4 dicembre vedrà l'evacuazione obbligatoria di 900 persone a causa delle operazioni di brillamento della bomba della seconda guerra mondiale che è stata ritrovata in un cantiere un mese fa vediamo il servizio è stata fissata per domenica 4 dicembre la data del disinnesco e brillamento dell'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato il 18 ottobre in strada a monte feltro nella rotatoria collocata fra autostrada zona industriale e frazione di case bruciate la bomba di circa 500 chili fu sganciata da un aereo durante la seconda guerra mondiale ha sonnecchiato in esplosa sottoterra per 70 anni prima di essere rinvenuta un mese fa dagli operai al lavoro sulla strada durante gli scavi preparatori alla realizzazione della cosiddetta bretella gamba ovvero una delle opere compensative previste da società autostrade funzionali a collegare la zona di villa fastigi a quella del casello ieri in prefettura si è tenuto il comitato per la sicurezza pubblica che ha previsto l'intervento di bonifica dell'ordigno per la mattina del 4 dicembre un'operazione che per ragioni di sicurezza comporterà una massiccia evacuazione della frazione di case bruciate e di parte della zona industriale 900 residenti saranno infatti chiamati fuori dalle proprie abitazioni fra le 6 30 e le 8 di mattina con la vitri frigo arena che sarà predisposta come centro d'accoglienza per chi non troverà ospitalità da parenti o amici oltre all'evacuazione è prevista anche l'interruzione del traffico in autostrada e nelle vie limitrofe l'operazione sarà coordinata dagli artificieri dell'esercito di bologna già intervenuti a pesaro il 18 ottobre scorso al momento del ritrovamento alle 9 la bomba sarà disinnescata e trasportata in un'area isolata che è stata individuata in strada distroppato nel comune di tavuglia qui verrà fatta brillare per operazioni che dovrebbero concludersi attorno a mezzogiorno ed ora cambiamo argomento nei giorni scorsi il consigliere comunale michele redaelli è intervenuto ai nostri microfoni per sollevare la poca chiarezza sulle esenzioni dal pagamento della tari per le famiglie pesaresi che hanno presentato i requisiti per beneficiarne argomento sul quale oggi gli assessori pandolfi e nobili hanno dato delucidazioni su un fondo tari che è stato ulteriormente allargato sono circa 2350 le famiglie che non pagheranno il 75 per cento delle bollette dei rifiuti per il 2022 un'operazione senza precedenti condotta dall'amministrazione comunale che la vede coinvolta nell'aumento del fondo tari a 470 mila euro un bando lanciato il primo di agosto è concluso il 30 settembre e che inizialmente prevedeva uno stanziamento di 230 mila euro rivolto ai nuclei familiari con un reddito massimo di 12 mila euro ma il numero delle domande si è rivelato maggiore rispetto al 2021 l'esigenza drastica delle famiglie in seguito a pandemia inflazione caro energia ha portato il comune ad estendere il bando accettando così le richieste di adesione di tutte le famiglie pesaresi che presentano un reddito non superiore ai 15 mila euro di tutte quelle formate da tre o quattro componenti con un valore isee sotto i 20 mila euro e di tutti i nuclei familiari da cinque più componenti con isee sotto i 22 mila euro assolutamente sì tant'è che nella prossima variazione di bilancio che porteremo in consiglio lunedì 28 andiamo a integrare con 180 mila euro le risorse a disposizione del del bando e arriviamo insieme ai 60 mila euro ricavati dall'economia e dai servizi sociali a una somma complessiva di 470 una somma importantissima mai stanziata ma da una risposta importante alle difficoltà e esigenze dei cittadini pesaresi è un'operazione alla quale abbiamo fortemente creduto come amministrazione comunale ma non era scontata e già dall'inizio abbiamo fatto partire questo bando tari che era aperto a più famiglie possibili e i numeri sono stati veramente alti perché sono 2600 le domande e da subito abbiamo capito che l'amministrazione comunale doveva lavorare per dare una risposta a più persone possibili e abbiamo lavorato per recuperare tutte le risorse che erano necessarie delle 2600 famiglie che hanno fatto domanda 250 richieste sono state respinte perché non in regola con i pagamenti della tari o perché non hanno rispettato i tempi indicati questo 10 per potrà pagare i bollettini da dicembre 2022 una comunicazione quella dell'amministrazione arrivata a una settimana dalla scadenza della terza rata prevista per il 16 novembre che aveva provocato confusione tra le famiglie che avevano fatto domanda vista la mancata risposta del comune entro i tempi necessari un ritardo giustificato dall'assessore nobili e causato dall'elevata richiesta di adesione al bando ma noi siamo arrivati tardi e volevamo essere certi delle domande ma soprattutto delle risorse che potevamo mettere a disposizione perché volevamo dare risposta a tutte le domande siamo riusciti in questa impresa e quindi siamo siamo contenti spero che lo siano anche i cittadini parliamo ora di economia in particolare di missioni commerciali all'estero ieri Confindustria Pesaro Urbino e la società Geocom Italia hanno tenuto un convegno volto a illustrare come muoversi in mercati internazionali a rischio argomento che poi andremo ad approfondire meglio nello speciale che potrete vedere su Rossini TV lunedì alle 21 e 40 ma del quale vi forniamo proprio adesso qualche anticipazione siamo onerati come Confindustria e Pesaro Urbino di avere ospite il generale Mario Mori e il colonnello De Donno inaugurano una serie di incontri all'interno del gruppo terziario avanzato dove verranno affrontate le tematiche oggi parleremo di geopolitiche di scenari internazionali e di quelle che sono le problematiche relative all'organizzazione di missioni commerciali all'estero come terziario avanzato vogliamo proprio approfondire le tematiche dei servizi dedicati alle imprese con tutto anche gli argomenti legati alla cyber sicurezza e tema estremamente attuale visto i momenti che stiamo vivendo tutto il contesto geopolitico è cambiato quindi anche le imprese andando all'estero devono pianificare bene la missione perché i rischi i problemi e chiaramente le norme giuridiche impongono una visione completamente diversa quindi oggi cercheremo di dare qualche indicazione su come ci si organizza per andare in paese all'estero soprattutto se sono ad alto rischio. è un momento molto significativo perché c'è un'effervescenza complessiva veramente notevole la crisi russo-ucraina ha creato e sollicitato altre situazioni di crisi e è necessario che un po' tutti anche il mondo imprenditoriale quello che si muove nel mondo che cerca di fare affari ha la necessità di conoscere e sapere le cinque città italiane dell'opera si uniscono pesaro bergamo catania parma e lucca hanno firmato oggi una dichiarazione di intenti in occasione dell'assemblea anci che si sta tenendo a bergamo l'obiettivo è quello di creare sviluppare un itinerario turistico musicale condiviso che coinvolga cinque realtà che hanno dato i natali ai compositori più noti del paese pesaro per giochino rossini bergamo per gaetano doninzetti catania per vincenzo bellini lucca per giacomo puccini e parma per giuseppe verdi il patto è stato firmato da matteo ricci assieme ai sindaci delle altre quattro città coinvolte venerdì 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono tanti gli appuntamenti dedicati alla riflessione sul tema nel nostro territorio pesaro commemorerà la ricorrenza riproponendo ai musei civici la mostra scarpette rosse in ceramica giunta alla sesta edizione da venerdì e fino all'undici dicembre le opere d'arte storiche di palazzo mosca saranno messe in dialogo con i simboli della violenza sulle donne interpretati dai ceramisti pesaresi tavuglia invece celebrerà la giornata contro la violenza con un doppio appuntamento teatrale a ingresso libero venerdì alle 21 nella sala del consiglio comunale verrà allestita fedra di seneca con adattamento e regia di luca guerini sabato invece alla scuola pascoli alle ore 10 lo stesso guerini metterà in scena le notti bianche con un adattamento inedito dell'opera di dostoevsky riflessioni in forma teatrale anche a gabice mare dove alle 21 di venerdì al teatro astra andrà in scena perché femmina voci di vittime dell'essere femmina si tratta di un progetto a cura dell'associazione il garbuglio ispirato al libro di serena dandini ferite a morte il ricavato della serata con biglietto d'ingresso a 5 euro sarà devoluto all'associazione il puzzle di gradara per progetti di integrazione per bambini e ragazzi con disabilità parliamo ancora di teatro per segnalarvi come da domani a domenica 27 novembre prosegue la stagione di prosa al teatro sperimentale di pesaro promossa da amat in scena ci sarà 70 volte 7 di controcanto collettivo spettacolo vincitore dei teatri del sacro 2019 70 volte 7 ideato e diretto da clara san cricca è un racconto di cui i destini di tue famiglie si incrociano in una sera fra rimorsi rabbie e dolori ed ora ci occupiamo di salute in modo particolare di prevenzione al diabete perché domani alle 18 e 30 a villa borromeo si terrà il settimo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo diabete ieri oggi domani continua il ciclo di conferenze dal titolo diabete ieri oggi domani che da metà settembre l'associazione diabetici di pesaro organizza a villa borromeo di pesaro giovedì 24 novembre alle 18 e 30 è in programma il settimo appuntamento che prevede l'incontro con i medici endocrinologi giulio lucarelli e massimiliano petrelli per approfondire le novità terapeutiche della nota 100 così come verrà approfondita la rete diabetologica marchigiana per chi lo desidera all'incontro seguirà la possibilità di cena con menù fissato al prezzo di 20 euro palazzo gradari di pesaro apre le porte sabato e domenica alla prima edizione di terremare wine festival una nuova rassegna dedicata alle degustazioni vinicole il 26 e 27 novembre palazzo gradari di pesaro ospita per la prima volta terremare wine fest una nuova manifestazione dedicata alla degustazione di eccellenze vinicole organizzata dall'enoteca terremare in collaborazione con connubio di vino e il patrocinio del comune di pesaro un weekend goliardico dove possono divertirsi assaporando quelli che sono un po' i gusti dei vini locali ma anche di quelli nazionali in una rappresentazione che lì presenterà a tutte le regioni i vitigni più particolari d'italia avremo 60 cantine quasi 130 etichette di vitigni differenti la parte leona la farà le marche insieme alla lombardia dove abbiamo le due sedi e dove rappresentiamo una molteplicità di operatori l'ingresso sarà gratuito, le consumazioni saranno a pagamento e diciamo l'utenza potrà scegliere tra diversi abbonamenti uno light dove darà la possibilità di bere 4 volte a 12 euro e una un po' più evoluta con 6 bevute a 15 euro a ogni cliente che sottoscriverà l'abbonamento verrà dato un calice omaggio che poi potrà tenersi e un portacalice per degustarle in tranquillità durante l'evento l'evento verrà svolto nel weekend del 26-27 il sabato a partire dalle 16 fino a mezzanotte circa e la domenica dalle 11 fino alle 20-21 Terremare Winefest avrà anche un curioso abbinamento al museo della bicicletta che da quest'estate è collocato negli spazi di Palazzo Gradari un bel evento che mette insieme la passione per la bicicletta e quello che può essere un integratore naturale il vino con la valorizzazione appunto di quella che è anche una passione del nostro territorio e quella enogastronomica è un evento prova, è la seconda tappa di Terremare Winefest la prima è stata in Lombardia e la seconda sarà a Pesaro e anche in virtù di Pesaro Capitale della Cultura 2024 in virtù anche dell'inaugurazione del museo della bicicletta che c'è stato a giugno 2022 e volevamo unire in questa occasione due elementi strategici che uno è la bicicletta e quell'altro è il vino quindi invitiamo tutti il weekend del 26-27 novembre a venire a Pesaro per questo bel evento promosso da Terremare Winefest e promosso da Connubio Divino e dal Comune di Pesaro con la grande collaborazione di Dario Corsi che è il nostro patrimonio per quel che riguarda la bicicletta la conoscenza e le competenze poi ci saranno anche delle cose simpatiche che invito tutti a venire a vedere e concludiamo il nostro telegiornale ci spostiamo a Fano per vedere quali sono gli appuntamenti del Natale ed esattamente il Natale più di Fano che alzerà il sipario proprio in questo fine settimana il grande albero campeggia in piazza già da giorni lo stesso vale per le luminarie già installate lungo le vie del centro insomma è davvero tutto pronto per l'edizione 2022 del Natale più il consueto cartellone di eventi natalizi made in Fano si comincia sabato 26 novembre con l'inaugurazione del Natale che non ti aspetti la rassegna provinciale che unisce tutte le proloco e che quest'anno avrà proprio Fano come location per un ideale taglio del nastro poi domenica 27 l'attesa accensione dell'albero quest'anno siamo riusciti a riempire praticamente tutti i weekend e la cosa importante è che sarà fatta il 26-27 di novembre dove avremo poi l'inaugurazione come ho detto prima il 27 ci sarà l'inaugurazione del nostro Natale quindi con l'accensione dell'albero il 26 invece faremo l'inaugurazione del Natale che non ti aspetti a livello provinciale dove ci saranno tutte le proloco al pincio quindi sicuramente tanti eventi che chiaramente speriamo insomma di dare un bel servizio per la città ci piace dire che sarà un Natale bello come sempre dobbiamo fare attenzione al periodo che stiamo vivendo soprattutto alla situazione energetica questo è ovvio ma noi abbiamo un grande carattere soprattutto dal punto di vista culturale associazioni che asprimono veramente un grande valore e il programma è veramente ricco quindi ci sarà il villaggio di Natale ci sarà la pista del ghiaccio ci saranno ogni sabato e domenica degli eventi sotto l'albero importanti che faremo in collaborazione con i cori con le scuole di danza con le associazioni cittadine ci saranno degli eventi ad esempio a Capodanno e nel periodo della Befana insomma ci sarà la via dei presepri che legherà il presepe di San Marco che è bellissimo la vera storia della salvezza a Don Marco gli piace chiamarla la storia dei diorami della salvezza e il presepe che abbiamo al porto così come il presepe dei maestri carristi del nostro carnevale proprio nel villaggio di Natale che sarà realizzato al pincio quindi Fano avrà una bellissima rappresentazione tante attività musicali insieme al jazz insomma veramente tante attività culturali un allestimento comunque importante che non disdegna nonostante questo momento che stiamo vivendo insomma un Natale di grande qualità anche quest'anno Fano proporrà dunque una ricca carrellata di eventi e di occasioni per vivere insieme lo spirito inconfondibile del Natale tra gli appuntamenti anche quello con il Gospel il 22 dicembre al Teatro della Fortuna sempre in teatro sono previsti numerosi eventi tra cui il concerto del primo gennaio dalle ore 17 due invece le iniziative letterarie proposte da passaggi festival e non mancheranno eventi ad hoc a tema carnevale in piazza 20 settembre poi l'immancabile appuntamento del 31 dicembre con un best off di musica italiana e internazionale insomma nonostante il covid e il caro energia Fano tiene alta l'asticella imbastendo un programma senza troppe rinunce perché è vero che si dovrà fare a meno di parte delle luminarie ma a differenza di tante altre città Fano avrà anche quest'anno la sua pista di pattinaggio che però si trasferirà da piazza degli avveduti a piazza 24 maggio nei pressi della Rocca Malatestiana Fano non ha rinunciato perché l'associazione che organizza questa attività ha aperto un bel rapporto con questa azienda che si fa carico di tutte le spese sia dell'energia elettrica che dell'installazione e quindi Fano avrà la sua pista del ghiaccio anche per dare un Natale adatto più ai giovani perché è molto utilizzata ai ragazzi di una giovane età Sì la pista sul ghiaccio come anche gli anni passati torna quest'anno siamo riusciti a farla venire a costo zero per quanto riguarda la città quindi siamo stati anche bravi da questo punto di vista ringraziamo anche la ditta che verrà chiaramente che si è resa disponibile a dare una mano per questa problematica E allora davvero complimenti al Comune di Fano per questa bellissima iniziativa dedicata al Natale anzi bellissime iniziative che partiranno proprio questo fine settimana invece questa sera subito dopo questa prima edizione del telegiornale esattamente circa alle 20.10 vi faremo vedere un estratto di quelli che sono stati gli stati generali del turismo presso della Chiara Work Spaces e poi invece alle 21.20 così come tutti i mercoledì abbiamo una nuova puntata di Ci Inviti a Cena programma nuovissimo targato Rossini TV questa sera andremo a conoscere l'abilità culinaria di Cristina e Antonio da Pesaro domani vi aspetto con la rassegna stampa in diretta alle 7.20 sul canale 80 anche in diretta sulla nostra applicazione sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito rossinitv.it mentre vi ricordiamo che domani torna una nuova puntata di Insieme a Canestro quindi vi aspettiamo in diretta domani sera alle 21.20 ospiti della serata avremo la guardia della VL Gudmundson e l'ex giocatore VL Giuseppe Ponzoni mi raccomando seguiteci perché potrete vincere i biglietti per le prossime partite grazie per averci seguito adesso vi lascio in compagnia del Meteo ho l'appuntamento con l'informazione domani con la nostra rassegna stampa grazie a tutti grazie a tutti